Ok salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come vedete ho di nuovo audio perché sono sul mio computer personale Sono ritornato finalmente a caso e come vedete questo qua è diventato di nuovo nero perché come se notate nei miei video precedenti era azzurro o blu, non ricordo Ora è ritornato qui, ok ragazzi volevo solo mostrarvi una intro creata da me, questa è quella creata però ora vi faccio vedere quella trasformata in full HD E volevo farvela vedere per sentire il vostro parere se vi piace o no Ma comunque volevo chiedermi anche come si fa a fare una intro per poi stoppare e mettere il video che devo fare Tipo così no? Per esempio comincia la intro, quando finisce io stoppo e metto il video che devo fare, però non so come fare Sì ma ditemi voi, sarebbe un gran favore per me Ok, vedetevi l'alto Ok, vedetevi l'alto Ok ragazzi Questa era la mia intro di penso 15-20 secondi Bene ragazzi, a voi la scelta Decidete voi Se vi piace o non vi piace E se volete sotto questo video Mettete un video di risposta In cui se volete In cui mi spiegate come Come fare Montare La intro con un video Per esempio Come l'esempio che ho fatto prima Per esempio io metto la intro appena comincia il video Quando questo qua Recording E si stoppa E comincia il video in cui l'ho fatto Se mi farete questo video Se mi farete questo video Sembra un grande favore per me Spero che accettiate di farmi questa specie di tutorial E basta E basta Da Multicamere 10 è tutto Ciao a tutti E Buona No Da Multicamere 10 è tutto A rivederci Grazie 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 Grazie.